Buonasera e bentrovati dalla redazione di Antenna 2. Apriamo il telegiornale di oggi con una notizia che vi abbiamo già dato in copertina, ovvero le ben 2700 firme raccolte contro la trasformazione dell'ex cinema Mirage di Clusone in un polo commerciale. L'iniziativa però ora si allarga perché i commercianti di Castione e Rovetta hanno deciso di promuovere un'iniziativa analoga per dire no all'insediamento di un nuovo supermercato in località Splus nel comune di Onore. Sentiamo cosa ci ha detto Franca Canova, presidente delle botteghe di Clusone. La raccolta firma per dire no alla trasformazione dell'area Mirage in un'area commerciale sta riscutendo un successo incredibile, al di là delle più erose previsioni. Da una prima stima siamo oltre le 2700 firme. La gente, i giovani, le famiglie, i turisti sensibilizzati su questa problematica aderiscono con entusiasmo. Forti appunto di questa incredibile adesione siamo stati contattati anche dall'associazione botteghe di Rovetta e dagli operatori commerciali di Castione, Bratte e Orga. In una riunione tenutasi nei giorni scorsi a Rovetta abbiamo concordato di iniziare una raccolta firme anche in tutti i comuni dell'Alto Piano, proprio per dire no alla trasformazione di aree artigianali in commerciali e anche alla nuova creazione di aree commerciali. Da questa riunione tenutasi a Rovetta è anche emerso il fatto che certe decisioni che hanno un impatto ambientale, artigianale e commerciale su tutto l'Alto Piano non devono essere decise dal singolo sindaco, ma devono essere concordate con i sindaci dei comuni limitrofi. In questo modo si eviterà quindi che gli sforzi fatti con lungimiranza dai sindaci per cercare di lanciare una vera politica turistica, quali ad esempio i sindaci di Castione e di Rovetta vengano vanificati da decisioni presi che vanno in una direzione opposta e quindi tutti questi sforzi vadano nel nulla. Stiamo pensando in particolare alla nuova area che sta nascendo a Onore lungo la strada che porta Castione della Presolana. Qui le strutture nascono come funghi e si trattano di strutture artigianali che però vengono, come già in Consiglio Comunale a Onore, hanno trasformato in commerciale. Noi vorremmo dire basta a questa trasformazione ad artigianale in commerciale. Siamo molto fiduciosi che questa raccolta firme su tutto l'Alto Piano prosegua nel migliore dei moni, proprio perché vorremmo stimolare i sindaci nei nostri paesi a rivedere le politiche economiche dando la preferenza a vere area di aggregazioni sia per i residenti e di turisti in modo tale che facciamo di tutti i comuni dell'Alto Piano un vero luogo dove il turista può recarsi e dove il residente trova delle aree di aggregazione dove poter andare. Castione della Presolana ci ha insegnato molto.